Borgin è la rete dei borghi cooperativi d'Abruzzo che fa sistema perché 32 cooperative di comunità, 32 piccoli borghi e i loro abitanti si sono costituiti in impresa del territorio e mettono a valore tramite la loro impresa i patrimoni inespressi ma spesso formidabili che questi borghi e queste realtà hanno. Conf Cooperative è stata interprete fin dall'inizio di questo progetto. Vuoi per il marchio delle cooperative di comunità ma fondamentalmente perché ha fatto anche da catalizzatore di una serie di altri partner che hanno partecipato e stanno attivamente contribuendo allo sviluppo di questo progetto. Altre organizzazioni come Conf Esercenti, Conf Artigianato, UMPLI, Slow Food, la sovrintendenza, diverse organizzazioni si stanno avvicinando a questa esperienza, ne stanno prendendo parte e ne sono partner strategici e istituzionali. Conf Cooperative ha investito circa un milione e mezzo di euro in Abruzzo fino ad ora e ha sviluppato microeconomie capaci di creare posti di lavoro. Per esempio, già siamo riusciti nell'anno scorso a attivare circa 50 posti di lavoro stagionali ma comunque sono 50 posti di lavoro che in Abruzzo nelle aree interne hanno messo in moto giovani e persone che si sono reinventate in un'impresa comunitaria, in un'impresa sostenibile, in un'impresa di territorio.